Mamma mia ragazzi, non pensavo che sarebbe mai stato necessario fare questo video, però davvero, cioè, vista tutta la mole di roba che mi è arrivata in questi giorni, io non posso privarmi del mettermi qui e mettere due puntini sulle i. Ah, ve lo dico già adesso, perdonate l'audio di questo video, che non so come sarà, ma oggi ho necessità di registrare senza la mia attrezzatura solita, quindi viene come viene. All style. Buonasera visualizzazioni e bentornati in questo nuovo video inaspettato, questo speciale sui commenti, che sarà completamente incentrato sulla questione Telegram. Perché non sapesse che cosa è successo, vado semplicemente a riassumere. Pavel Durov, il proprietario, sì io, un sacco di sigle, un sacco di marche, è stato arrestato per non aver collaborato con le autorità per quanto riguarda la rimozione e la moderazione di contenuti altamente illegali sulla sua piattaforma. E qui stiamo parlando veramente di tutto, dalle cose più semplici che si possano immaginare, quindi semplicemente delle truffe, a cose molto più serie come vendita di sostanze, armi, fino ad arrivare a contenuti espliciti di minori che tranquillamente circolano sulla piattaforma. Il proprietario lo sa, Durov lo sa benissimo, ma ogni volta in cui gli è stato detto ehi, dovresti un attimo darci una mano per questa situazione qui, ha fatto spallucce e non ha risposto a nessuno. Ha appositamente evitato di atterrare sul suolo europeo perché Durov ha la doppia cittadinanza. E una di queste qui è russa, quindi ci siamo già capiti dove vogliamo arrivare oggi, soprattutto nel periodo storico che stiamo vivendo. Io ho fatto un video su questa vicenda, che vi invito anche a recuperare, leggendo però quella che è stata la reazione di un sacco di persone, non tutte ovviamente. Oggi parleremo di quelle che non sanno scrivere correttamente in italiano e che probabilmente firmano anche con la X perché altrimenti non si spiega. Ecco, io sono stato assaltato da queste persone perché sono convinte che questa roba voglia dire che ci vogliono controllare, che Telegram è l'unica applicazione in cui la libertà... sì, vabbè. Quindi sappiate che oggi perderete i punti del vostro cuciante intellettivo continuando a guardare questo video, quindi a vostro rischio e pericolo. E visto che siamo in una tana di squali oggi, vestiamoci come si deve. Questo capolavoro lo trovate su Pampling, la maglia dello squalo, ma con la paperella. E utilizzando il mio codice sconto, Gematria, riuscirete a ottenere non soltanto, come già detto, uno sconto, ma anche delle calze in omaggio. A questo punto io direi semplicemente di rimboccarci le maniche, fare un bel respiro e di cominciare. Ah, io ve lo dico già adesso, alcune mie risposte saranno infantili perché a domanda stupida risposta stupida, ma andiamo a vedere che cosa mi ha riservato il genere umano questa volta. Chi ti paga per questo video, madonna? Male non fare, paura non avere, sia su Telegram o altre app. Adesso scusa, vado a pisciare a Telegram, non interessa alle altre, sì, poi fai tu. Facciamo che dopo ogni commento mi scrivete sotto che cosa avete capito. Telegram tutta la vita, viva farsi cazzi propri, guarda sei proprio sull'app giusta. È sempre stato così con Telegram e guarda caso, proprio adesso questa manovra blocchiamo anche le persone, non facciamole uscire, facciamo casa lavoro, casa scuola, così non possono fare niente di male, giusto? Il problema non è la piattaforma, oh invece sì che il problema è la piattaforma questa volta. Il problema è la gente marcia, che non la combatti chiudendo i mezzi di comunicazione. Sì, che è la cosa più semplice e immediata da fare, e indovina un po' anche la più funzionale. Ma magari facendo qualcosa di concreto, magari, così, possono chiudere, togliere privacy, tanto chi fa queste cose troverà altri mezzi o creerà altre piattaforme simili. Sì, il compito delle forze dell'ordine sarebbe anche quello di monitorare questa roba qui e di evitare che piattaforme simili possano proliferare. Sa cosa che facciamo? Ti vengono a rubare in casa? Non la chiamare la polizia, perché tanto magari questi qui li fermi, ma qualcuno troverà prima o poi il modo di rubarti qualcosa. Che c***o di ragionamento è? Comunque sia, gli ho chiesto a questo ragazzo, cioè, qualcosa di concreto, ok, tipo? Eh, ma non è il mio lavoro trovare soluzioni, ci sono persone che vengono pagate più che abbastanza per farlo. Credo comunque che sia un grande errore mettere mano a Telegram, tutto qua. Ed è ingiustificato fare discorsi di questo tipo. Come te, anche io non ho nulla da nascondere e me ne sono sempre sbattuto di lasciare i miei dati in giro. Però questa cosa mi fa incazzare perché mi hai detto che è stato arrestato perché non collaborava, eccetera. Ma mi sembra solo una cazzata. Eh, mi dispiace per te, non lo è. Cioè, nel senso, mettiamo caso, facciamo, vogliamo venire incontro a questa stronzata, mettiamo caso. Questa roba è comunque una copertura. Perché hai lasciato in ogni caso quella roba che circola sulla tua piattaforma? Torniamo sempre lì. Tu ci puoi mettere tutte le scuse che vuoi, puoi mettere tutto quello che ti pare. Il problema è che comunque quella cosa resta e sbattersene del fatto che una piattaforma lascia circolare tranquillamente roba sui bambini. Tutte queste schifezze, tutte queste cose qui perché, ah, ma la libertà, eh. Cioè, è questo l'uso che facciamo alla libertà, quindi, bello. Se vogliamo fare un paragone, allora ogni volta che viene commesso un crimine in un paese, se non si trova e non si punisce il colpevole, allora mettiamo tutti i canali di comunicazione sotto controllo oppure ogni persona di casa che esce viene eseguita per controllare che non faccia nulla di male. Non so in che altro modo spiegare che è una cosa assurda. Sì, sarebbe una cosa assurda se quello che viene fatto non fosse stato coperto dal proprietario di quel posto, ok? Se in casa tua, mettiamola in questo modo, se in casa tua succede un affare losco perché permetti tranquillamente che delle persone dai fini molto loschi entrino in casa tua e facciano delle cose losche, sì che mettono dentro pure te se ti rifiuti di collaborare perché rifiutarsi di collaborare qualcosa vorrà dire, ok? Quando chiudono YouTube per quelle challenge in macchina di quel canale che ha portato alla morte di persone? Sì, vabbè, vabbè, ma queste cose, cioè, capito, puoi farle funzionare solo ed esclusivamente in mezzo a persone che non sanno discute con la gente, che se ne escono con le teorie strane, con le cose. La risposta è molto semplice, YouTube non ha mai coperto questa roba, non ha mai difeso l'operato, in questo caso si sta parlando del caso dei The Borderline, no, non l'ha mai difeso, guarda caso hanno smesso di fare video, guarda caso se non ti schieri a favore o comunque se non fai spalluccio, se non fai così davanti a una cosa del genere, guarda caso le cose migliorano. A parte non comprendere la visione generale della questione, che cazzo vuol dire, vi stanno mettendo le manette e voi applaudite. Chi mi sta mettendo le manette? Dove? Quando? Fammi nomi. Dove? Chi? Li andiamo a prendere sotto casa assieme? Dai, ti ci porto io, la porto io alla macchina, e a me? Non, vabbè. Punto di vista completamente sbagliato per quanto mi riguarda, pensi che non ci siano cose simili su altre piattaforme? Sarà che il fondatore di Telegram, a differenza di quelle altre piattaforme, non condivide le informazioni con gli stati? Sì, è un amico tuo, certo. Sarà che Telegram, oltre ad essere una piattaforma di messaggisti, che è un ecosistema molto più ampio e che va in contrasto con chi detiene il potere? Il potere! Video molto superficiale, e solo un altro passo verso la demolizione della democrazia. Ammesso che ci sia ancora. No, c'è ragione, non c'è più la democrazia, non esiste più. Infatti tu non sei stato libero di scrivere le tue follie giornaliere sotto il mio video senza che nessuno abbia passato al vaglio quello che hai detto. Certo. La libertà è pericolosa? Ma vergognati. E trasferisciti in Corea del Nord. Perché la gente toglie i pezzi dalle cose che dici? Io ho detto che la libertà in mano alle persone sbagliate è pericolosa. E per persone sbagliate... cioè, non veramente. Ma vogliamo veramente dire che se si tratta di roba sui bambini, allora no, è la libertà però. Ognuno deve fare quello che vuole, perché... Ti ci farei vivere a te in Corea del Nord, così vediamo se la smetti di resta buttato in Italia. Pessimo, pessimo video. Tutto quello che avviene dopo un ma non conta nulla. È di ma nei messi tanti, soprattutto il primo. Grande come una casa è irricevibile. Il fatto che una persona, se ossessionata dalla privacy, abbia necessariamente qualcosa di illegale da nascondere è il classico ragionamento di sistema. Bravo, ti sei posizionato bene. Ora ti manca solo la bandiera arcobaleno e l'elogio al UEFA e hai fatto poker. Hai mai pensato di uscire di casa? E di parlare con persone dal quaziente intellettivo superiore al 7? Quindi, visto che è registrato a Dubai, bisogna bombardare Dubai perché è colpevole anche loro. Cosa? Aprire posta non tua per adesso mi sembra sia reato federale. Quindi, secondo te, si dovrebbe aprire impunemente la posta altrui? Non ho detto questo. Disinformazione, chi lo decide cosa sia? Perché in questi ultimi cinque anni ne ho vista disinformazione su media principali in prima pagina e dopo mai una smentita in prima pagina? No, è che tu la seconda prima pagina non la leggi, leggi solo la prima, guardi le figure. Faccio una riflessione. Non sarebbe meglio indagare, infiltrarsi come fai pure tu, trovare indirizzi P e incastrare certa gente? Sì, questa cosa la puoi fare. Madonna! Madonna! Sì, tesoro. Sarebbe bello poterlo fare se solo il proprietario di Telegram non fosse un soggetto molto particolare con una grande inclinazione allo sbattersene. Quindi sì, mi stai dando torto, ma automaticamente mi stai dando ragione perché stai... E' incredibile comunque. Gematria, tu non capisci veramente niente. Non sarebbe meglio fare esattamente quello che hai detto tu? Incredibile. Che tanto un modo lo trovano? Anche se inviano piccioni viaggiatori. Spero non uccidere tutti i piccioni dopo. Vabbè. Il problema è che dopo si prendono la libertà di chiudere tutto. Anche chi magari fa solo ironia. In certi paesi hanno proibito puntate di Simpson o Griffin poiché le autorità non distinguono certe sottigliezze. Ma chi l'ha detto? Ma chi l'ha detto? Cioè, ma devi vedere dove hanno chiuduto. Veramente, ragazzi. Veramente. Vivete in uno dei paesi in cui c'è più libertà al mondo. E comunque, comunque, vi lamentate che la gente vi vuole controllare così. Voi non avete idea di che cosa voglia dire essere controllati. Voi, l'Italia è il posto in cui potete fare la maggior parte delle schifezze dal punto di vista amministrativo, dal punto di vista... Da qualsiasi punto di vista. Tanto che siamo famosi nel mondo per quanto ce ne sbattiamo. Soprattutto, soprattutto in alcune aree, diciamo. E non intendo geografiche, intendo sociali. Ce ne sbattiamo molto. Ma sì, vabbè, risolviamo, facciamo. Vivete in uno dei paesi in cui è più facile vivere. Da questo punto di vista, si intende. Perché, veramente, io devo soppesare ogni parola perché, cioè, magari se dico è più facile vivere, arriva quello che mi dice, eh, però gli affitti... Nessuno sta parlando di soldi qua. Stiamo parlando di libertà di fare quello che ti pare, ok? Non so se vi siete mai fatti un giro fuori di casa prima di scrivere sta roba. Però, sta di fatto che io ho a questo momento un risposto che, non so se gli fosse chiaro, che qui si stava parlando del fatto che su Telegram ci sia roba sulle bambine. Quindi tutto il suo discorso non ha senso, non ha fondamento. E sarebbe bastato ascoltare quello che ho detto nel video. No, non seguo certe pagine, ma come ho detto prima, meglio così. Investigare, infiltrarsi e organizzare trappole a certa gente. Se sai dove si trovano, è più facile. Infatti, investigare lo devono fare investigatori. E non uno che ha scritto il programma su PC per aprire Telegram. Credo ci siano altre ragioni. Vogliono il pensiero unico e sottomesso alle loro idee. Forse si prepara qualcosa di serio e non vogliono pareri contrastanti. Chi? Chi? Chi è che vuole preparare qualcosa di serio? Qualcosa di serio andrebbe preparato per chi le scrive, queste cose? Cioè, veramente, ragazzi, non ce la posso fare. Veramente, non ce la posso fare. I miei nervi non sono abbastanza forti per resistere a questa marea di boiate. Gli ripeto. Oh, guarda che avresti dovuto semplicemente ascoltare quello che ho detto invece di... Scusa, io non dico che il tuo pensiero sia sbagliato. Sbagliato. Cerco di dare un'altra prospettiva e riflettere. Su cosa? Di solito vado a verificare quello che mi viene detto da content creator, ma capirai che non andrò a cercare bambini in vendita. Quindi non so quanto sia seria la cosa o quanto si esageri. Guarda che non è illegale andare a cercare gli articoli di giornale. Ah, vabbè. Articoli di giornale, pure io. Sarebbe troppo facile, no? Informarsi. Sarebbe troppo facile. No. Penso che comunque se ne deve occupare la polizia postale senza che Telegram vada contro il suo pensiero di lasciare una piattaforma libera. Allora, gioia della mia vita. Allora, c'è una cosa che dobbiamo chiarire qui. Il fatto che questi tizi abbiano questa libertà di fare questa roba è esattamente il problema di cui stiamo parlando. Se Telegram avesse delle regole e le rispettasse soprattutto, non si porrebbe il problema. Visto che il proprietario informato di questa roba ha fatto spallucce, non gliene frega niente. Tanto che sono anni che c'è il mandato di cattura su di lui, c'è il mandato del resto, come si chiama, quello che volete. Cioè, dovete pure capire che a un certo punto, Italia 1 costi e sai, lo possiamo pure spegnere, possiamo pure capire che ci sono delle cose che non risolvi mettendoti lì e facendo Devo capire qual è la verità, le cose. La vostra vita non è un film. Quando c'è un'accusa, quella è. Tutte cagate, da fastidio a molti perché pubblica le cose come stanno, dice la verità e in questa Europa dire la verità è impossibile. E infatti lui ha scritto questa cosa, gli è esplosa casa, ma poi dice le cose come stanno chi, Durov? Cioè, il canale Telegram di Durov. Però sotto quel video ci sono stati anche dei dubbi di persone preoccupate, seriamente, magari un po' per ingenuità, magari un pochino per ignoranza, nel senso buono. Io utilizzo Telegram perché sono parte di un gruppo della Croce Rossa spagnola, devo preoccuparmi? No, io questa cosa l'ho già detta in quel video e per qualche motivo la maggior parte delle persone non l'hanno ascoltata. Nessuno se la sta prendendo con chi fa un uso tranquillo della piattaforma, ok? Io purtroppo in quel video ho dato per scontate tante cose, dimenticandomi del fatto che negli ultimi anni Telegram è finita in mano a quelli che prima stavano su Facebook. Nessuno se la prende con voi se fate parte di ambienti tranquilli, da nessuna parte, sia su Telegram, cioè voi potreste tranquillamente trovarvi in questo momento nel Bronx. Se vendete ciambelle, nessuno vi verrà mai a dire niente, nessuno, cioè in senso, bravi persone, nessuno vi verrà mai a dire niente. Smerciate roba, fate cose strane, ecco lì forse dovreste preoccuparvi a prescindere da dove vi trovate. Però da qui in poi, nel video ve lo dico, il quaziente intellettivo si abbasserà drasticamente. Ci pubblichi tutte le tue conversazioni e foto che hai sul cellulare nel prossimo video? Però fallo davvero, non solo a parole. Sono curioso di vederle, tanto non è nulla da nascondere. A parte che sarebbero estremamente noiose. Ma io non sono indagato per favoreggiamento di roba su bambini, truffe, sostanze, non sono indagato, quindi no, non devo fare niente. Nel momento in cui invece sei indagato e la giustizia ti dice, zio, devi fare, lo devi fare, punto. Non lo fai, c'è qualcosa da nascondere. È tranquillo che ti verrà preso. Così funziona la giustizia. E meno male. Gematria, il male è ovunque, basta saper distinguere e non cascarci. Io che sono singolo, abito da solo, ma se mi bussano, dico se mi bussano. Io non faccio salire anima viva nemmeno una figlia o un figlio di un mio amico. E no, via tutti, preferisco stare da solo. Questo è l'altro estremo. Curati. Mi dispiace per te, c'hai qualcosa che non va, speriamo che vada meglio. Ecco, prova a vedere certi gruppi del famoso amato Facebook. Centomila volte peggio di Telegrams, ma d'altronde c'è da fare concorrenza alla TV e altri YouTuber. Alle mediazioni? Mediazioni. Concorrenza TV e altri... Che? Telegram. Alle mediazioni, forse intendeva i media, rode perché è gratuito. Fosse a pagamento, nessun bel casino mediatico. Ma perché Facebook è a pagamento? Whatsapp è a pagamento? Cioè, YouTube è a pagamento? Non ho capito. Oltre al fatto che c'è il Telegram Premium, degli abbonamenti infiniti, delle cose... Opinione per ciò che vedo? Sarà la cataratta. Non critica, tranquillo. Anche quelle ci devono essere, se no non c'è gusto. Tutti i commenti rose e fiori. Sei bravo, ma non su questo argomento. Me ne occupo solo da dieci anni, figurati. Sei sicuramente più esperto di me. Proprio ora? Atto di fedeltà? Così magari non ti mandano al fronte. Eh? Eppure sbagliato a mettere il... Eh, me lo metto con l'arcento, vabbè. Ridicolo. Hai perfettamente ragione, ma temo che questo sia un canale per paranoici. Sono rimasto di ghiaccio quando in questo video si è detto a un certo punto che la libertà è pericolosa. Quindi meglio essere paranoici, essere pecore, rinunciare a un proprio autonomo modo di pensare, farsi controllare in tutto mostruoso. Questo qui è lo stesso account di un tizio che mi ha lasciato un papirone gigante. Io vi giuro su Dio, ragazzi, l'ho letto. Per lavoro scrivo, ok? Per lavoro scrivo, leggo, devo avere comprensione del testo ad alti livelli per lavoro. Quindi per forza il problema qui non sono io. L'ho letto io, l'ho letto tantissima altra gente. Nessuno è riuscito a capire cosa volesse dire. Niente. Cioè, non veramente. Gli hanno chiesto, scusami, ma sto papirone a che serve? Io non ho detto niente di quello che dici, assolutamente nulla. Possiamo dire, non hai detto nulla, che è diverso. Vabbè, dici di essere un avvocato, buon per te. Lo devo fare come su internet, che la gente sente avvocato e comincia a darti del lei, a dire, mi scusi. Sei un essere umano, tranquillo. C'è un pezzo di carta in più di me, fine. E dovresti anche essere per la giustizia. Non sono per niente d'accordo. La sicurezza non esiste da nessuna parte, la criminalità è ovunque. Anche nelle nostre sicure casette. Nessun governo può garantire niente. Se non piace Telegram, basta non entrarci. Lo stesso vale per tutte le piattaforme. Ehm, no. No, nella maniera più assoluta, no. Telegram è un problema per l'anonimato. Nella tua casetta c'è un indirizzo, se entra un ladro ha un volto, delle impronte digitali. Esiste la possibilità concreta di beccarlo, pescarlo e assicurarlo alla giustizia. Su Telegram, invece, puoi nascondere virtualmente qualsiasi crimine. Puoi fare quello che vuoi. Nessuno di normale penserebbe mai che Telegram è una piattaforma amica tua. Puoi fare quello che vuoi senza che il proprietario sappia niente. Quello no. E non penso neanche che debba esserci un controllo a tappeto sulle chat di qualsiasi tipo. Ci mancherebbe anche. Quello che si sta chiedendo qui è semplicemente qualcosa che ogni altro social deve rispettare. No, non sto qui a farvi pipponi legislativi, legali, anche perché stiamo parlando di commenti, di gente che non è stata in grado di capire un video estremamente semplice come quello che ho fatto io. Ci sono video molto più complicati. Cioè, figuriamoci. Vediamoci. Qui si sta parlando del fatto che ci sono delle segnalazioni, ci sono delle denunce, delle cose, e Telegram non collabora su cose molto gravi, non sull'insulto che prendi su Facebook, su cose gravi, quasi da ergastolo. Qua sono come quelli che si lamentano delle telecamere, no? Oh, io non voglio le telecamere in giro perché poi tutti possono vedere tutto. No, si può vedere soltanto in flagranza di reato. Cioè, questo dice la legge. Non ci vuole tanto. Sono su Telegram da inizio 2015 e confermo tutto quello che hai detto nel video. Telegram è totalmente libero e questa è una lama a doppio taglio. Il mio punto di vista. Anche nel posto più sperduto, con la gente più arretrata, esistono inevitabilmente delle regole. Questo significa che per quanto io possa essere a favore della libertà, devono esserci dei limiti. Pediotruffe, violenza su persone animali, gors, puttamente, tante altre belle cose, meritano di essere calciorotate da Telegram. Ho visto delle cose lì. Ma Telegram è anche pieno di gente tranquilla che vuole stare in compagnia e condividere cose e alcuni gruppi non hanno tutta quella merda, alcuni ne hanno poca se non niente. Quindi, ripeto, per me certe cose andrebbero eliminate e mi fa strano che non siano stati passati dati di certa gente alle forze dell'ordine. Ammesso che non stiano usando VoIP o un'altra roba per poi non farsi scoprire. Ma in ogni caso, è solo un modo per ralentare le indagini. Prima o poi, se vogliono, li trovano. Io sono perfettamente d'accordo con questo commento e incarna perfettamente quello che ho detto nel mio video. Ragazzi, cerchiamo anche un attimo di venire incontro a tutti quanti qui perché è importante questo, non è soltanto importante mettere la gente al proprio posto. Penso che chiunque abbia a cuore il fatto che tutti stiano bene, ok? Penso che tutti quanti abbiano a cuore il fatto che la gente deve sentirsi tranquilla. Stiamo parlando di un posto in cui ci sono dei criminali pesanti, dei criminali veramente importanti. Non si può ragionare come se fosse il salotto del tè e soprattutto non potete essere così egoisti da pensare che i governi di tutto il mondo vogliano sapere che tipo di caffè ti bevi tu ad abbiate grasso e soprattutto non capisco perché questa cosa dovrebbe imparanoiarti. Chi se ne frega del caffè che bevi tu, cioè, veramente. Ed è anche l'unica piattaforma dove si può vedere cosa succede nelle zone di guerra. Strano che la arrestino proprio ora. Chi l'ha detto che è l'unica piattaforma? Hai una conoscenza limitata di internet, mi dispiace. Ho tantissimi siti molto estremi su internet che paradossalmente passano meno guai legali di Telegram e sono più controllati. Quindi figurati, non condivido affatto il tuo pensiero. Sei la riprova del politicamente corretto a ogni costo. Io. Vabbè. Cioè, pensa te, se la riprova del politicamente corretto sono io, mi ho messi bene. Ma tu lo sai minimamente che cosa faccio io di lavoro, che cosa faccio io su questo canale, soprattutto. No, non lo sai. Perché non sai niente. Ecco perché non sai nulla, di nessun argomento. Tutto quello che racconti succede ogni giorno, in ogni luogo, anche in tutte le telefonie. Telefonie! Diciamo piuttosto che vogliono eliminare quel poco di privacy che è rimasta. Stanno cercando il pretesto per creare un altro martire come Assange. Qualcun altro qui si sarebbe incazzato come una iena. Io, sarò onesto, non penso di avere la pazienza. Guarda che nessuno ha in dovere di collaborare con le forze dell'ordine, per tua notizia. Eh, guarda che invece sì. Pensa un po'. Soprattutto se si parla di roba del genere. Poi, oh, puoi non farlo. Questo non vuol dire che non avrai delle conseguenze. E io godrò, sta per lo spumante. Ariecco lo scienziato. Non c'è verso proprio. Che cos'è? Un'autobiografia? Certo, perché dal tuo punto di vista pensi subito a chi lo usa per fare cose illegali. Hai pensato che è anche uno strumento indispensabile per comunicare a chi si oppone a regimi autoritari che altrimenti verrebbero subito individuati e arrestati? Telegram è innanzitutto uno strumento di libertà e spero che tale rimanga. Io a volte mi chiedo veramente per quale motivo, cioè, veramente, perché non me ne vado su un cucuzzolo di una montagna in cui questa gente non esiste? O perlomeno se esiste, chilometri e chilometri tra me e queste persone. No. Devo respirare la loro stessa aria. Telegram è l'unico social ad oggi libero da qualsiasi tipo di autorità. Sì, è proprio questo il problema. È un problema. Questa cosa non va a tuo vantaggio, a meno che tu non sia un criminale, non va a tuo vantaggio. Sei un problema, Telegram. Se ne sbatte le palle, le tue informazioni rimangono lì. Quello che non deve starci rimane lì perché a duro non gliene frega niente. Le cose di chi parla le trovi anche su Facebook o WhatsApp. La differenza è che su altri social sei controllato da varienti. Su Telegram no. Se ad oggi sappiamo quello che succede in Gaza e Ucraina, grazie a Tele... Io chiudo veramente. Io posso chiudere qui. E grazie a Telegram... Io veramente non... Dici, madonna... Grazie a Telegram, ragazzi. Cioè, Telegram è la salvezza del genere umano. Assolutamente. Gesù Cristo, cioè, si è saputo che è stato messo in croce grazie a Telegram. Pensate che addirittura Napoleone... Vabbè. Sul vostro amato Facebook e anche YouTube determinate notizie sono censurate. No. No, caro mio, no. È censurata la disinformazione, che è diverso. Su Telegram, invece, prolifera tranquillamente perché non c'è nessuno a dire Oh, zio, magari è il caso che non la dici questa cosa perché delle persone potrebbero farsi male. Ecco, è questo che manca su Telegram. Bifolchi maledetti. Ma davvero pensi che lo spaccione di turno l'entra o no, sussino Telegram usano tranquillamente Facebook, YouTube o WhatsApp? Ma come fai a usare YouTube? Cioè, non mi viene in mente un modo che tu possa usare come spacciatore su YouTube. Ce l'hanno sul telefono, intendi? Queste notizie non sono credibili. Sono credibili quelle contenute nella Bibbia nella parte che tratta dell'Apocalisse. Ormai tanta gente lo ha capito o lo sta capendo. Questa ma... Ma non ci sono soltanto pareri stupidi. Ci sono anche opinioni ragionate e ben argomentate. Gnè, 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 viva Telegram. Ok. Costituzione, articolo 15. La libertà, quelli che citavo la Costituzione, mi fanno sempre crepà. La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili. La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dall'autorità giudiziaria e con le garanzie stabilite dalla legge. Che è esattamente quello che sta succedendo. Peccato! Questa cosa dobbiamo anche un attimo mettere i punti su lei perché è uscita dopo il mio video. Durov è attualmente infermo, attualmente arrestato semplicemente perché potrebbe scappare in qualsiasi momento. Perché sta pieno pieno di soldi. Aerei privati di qua e di là potrebbe scappare. Per quale motivo potrebbe scappare? Perché dovrebbe semplicemente rendere conto di quello di cui se ne è sbattuto per anni. E a parte che hai citato la Costituzione italiana. Però, vabbè. L'ignorante sei tu. Anche su WhatsApp la crittografia end to end. Dimostri veramente di aver letto mezza cosa e di aver parlato a Bambera. Posso concordare su alcuni concetti e sulla pericolosità ma stai facendo veramente una pessima figura. Io ho fatto un esempio ma hai fatto veramente tanti errori a partire dal concetto di privacy. Ti smentirebbe qualunque esperto di informatica sia sul piano etico che sul piano tecnico. Non ho voglia di farti la lezione su cosa sia sbagliato. Ok. Sai benissimo di aver fatto un video preso a pochista e se non ti rendi conto è un problema. Sei uno youtuber, hai una responsabilità. Ah, io ce l'ho la responsabilità. Pavel Durov, proprietario di Telegram. È responsabile una volta informato di quello che succede sulla sua piattaforma? No. Sai quella è la cosa divertente. Qualsiasi esperto di informatica è d'accordo con me. Tolto il fatto che quel video che ho fatto sì è preso a pochista perché non mi sarei mai aspettato così tante imbecillità solo in una botta. Non date ovviamente. Tu sei un grande. Il fatto qui, va bene. La roba end to end pure su WhatsApp. Ok, fantastico. Parliamo un attimo della crittografia di Telegram. Tutte le schifezze presenti su Telegram sono salvate nei server Telegram e a Durov è stato contestato esattamente questo. Il fatto che sia tutta lì la roba e che lui non voglia a nessun modo aiutare le indagini. Quello è il punto. Il punto è proprio che nonostante abbia accesso direttamente lui al 99,99% delle cose che potrebbero risolvere tutti i problemi no, non lo fa. Non ha mai fatto niente per limitare la diffusione di questa roba in maniera seria e non ha mai voluto collaborare con le autorità. Questa cosa al mio paese si chiama crimine. Tutta la vita meglio Telegram e X che le porcherei da furfante e prevo i cinesi di TikTok. Mamma mia, tu sì che ci vedi lungo, eh. Occhio dell'aquila. Tu proprio ci vedi lungo. Hanno fatto bene. Meta, eccetera, eccetera. C'è più pulizia, diciamo. Basta non obiettare sulla voce ufficiale allora ne puoi dire di ogni. Ah, mo, mettere roba sui bambini è non rispettare la voce ufficiale. Eh, ma il tipo del video dice che se non è nulla da nascondere la privacy non serve. Ci dà il suo cellulare in mano senza problemi, dice. E aggiunge che la libertà può essere pericolosa. Pensate come si è ammessi. Quando gli chiuderanno il canale perché ha detto una verità scomoda con tanto di arresto magari ci capirà qualcosa. Ti posso assicurare io su questo canale dico tante di quelle cose che non dovrei dire. E sto qua. Lo sai perché sto qua? Perché il mondo non funziona come dici tu. Madonna, che pena, ragazzi. L'unica piattaforma realtà. La solita propaganda di sionisti con i servi del mainstream. È una combo questa. È una combo. Tu voti. Cioè, capito? La domanda da porse è perché proprio adesso? Non sarà forse perché viene utilizzato per mostrare verità scomode all'Occidente che sul mainstream vengono nascoste e spesso ribaltate. Ogni dubbio è lecito. Ah, e chi l'ha detto che ogni dubbio è lecito? La logica non dice questo. Mi dispiace. Sempre per screditare tutto quello che non fa comodo. Speriamo che le pecore non abboccano. Potevamo vedere le cose reali e questo non lo permettono. Eh, anche lui. La salunga. Perché non hanno fatto la stessa cosa al proprietario di Facebook? Ma tu lo sai almeno il calvario che si è passato Zuckerberg giustamente? Lo sai il macello di Facebook analitica? No, non lo sai. Non lo sai. Non lo sai. Stai facendo disinformazione? Denunciami. Ti fermo. Denunciami. Mi denunci per disinformazione. Lo puoi fare. Non è assolutamente come lo descrivi. Al contrario un luogo dove la libera informazione può circolare. Al contrario dei social tradizionali dove assistiamo a continue censure a vari livelli. Inoltre per avere un account è obbligatorio del proprio numero di cellulare e una normalissima app di chat come Whatsapp. Beate ignoranza, veramente. Lascia stare. È un canale che cerca di acchiappare visuals e basta. Questo qui di solito non lo guardo. Ma quando si tratta invece di dimostrare a tutto il mondo il proprio essere brillanti e avere un cervello funzionante minchia se ci regali le perle, zio. Io non sono d'accordo con il suo arresto. Per me la libertà deve venire prima della morale. Vorrei che qui dentro ci fossero delle sostanze a meno cive. Zucchino? Ah, c'ha pure i soprannomi, capito? Perché quando non c'hai un cazzo da fare della mattina alla sera dai soprannomi tipo amichetti, no? Nelle community di sfigati su internet dai soprannomi a delle persone che potrebbero comprarti e metterti sul tavolino. Zucchino. Per quello che è successo su Facebook Whatsapp non è responsabile lui sì? Chi l'ha detto che non è responsabile? Ridicoli. Penso che Telegram come ha fatto a sbagliare a scrivere Telegram così? Il T9 non te lo corregge? Madonna. Non sia controllabile smaschere le bugie del mainstream e questo è il vero problema. Oppure il fatto che tu sia scolarizzato probabilmente e abbia un diploma. Finiamo con la perla perché ovviamente non è che ci limitiamo a quel video lì anche se è uscito fuori un film me ne rendo conto. Passate oltre un altro youtuber disinformatore allineato al sistema che pubblicizza ancora il vaccino Covid cosa possa prevenire il contagio sebbene sia stato ammesso ufficialmente che non è così eppure nel bugiardino c'è scritto che non lo previene hai perso credibilità. Non tu che commenti una follia un delirio del genere sotto il video su Miauba. Ragazzi io madonna sono sfinito sono sfinito cioè questo video mi ha occupato un'intera giornata di lavoro madonna cioè io sono veramente atterrato ma si può essere così si può arrivare a sto livello c'è qualcosa che non va nel nostro sistema scolastico se questo è quello che ne esce ragazzi cioè con tutta la buona volontà ma che ci fate ancora su questo pianeta voi siete troppo avanti lasciate quelli come me qui i villici no lasciate gli imbecilli come me su questo pianeta voi andate su Marte possibilmente senza casco andate lì senza navicella con un'enorme fionda ci hanno provato per dimostrare la terra è piatta ma lasciamo per con un'enorme fionda spinta verticale proprio asse Y sempre che create nel piano cartesiano si intende proprio asse Y e non ci vediamo mai più ma chi cazzo cioè veramente la cosa che più mi fa crepare di questa gente è che si comporta come se uno come me non vedesse l'ora di avere sta gente intorno Dio mio ma per carità di Dio veramente veramente non so come si faccia ragazzi ad arrivare a un punto del genere e pensare pure di essere non soltanto nel giusto di quello che si dice ma di essere delle persone che la sanno lunga che sanno certe verità che sanno certe cose come fai come si fa ad arrivare a un punto del genere ma veramente a 39 anni che succede hai la trasformazione tipo Ninjask che o diventi una cosa fighissima o diventi una nullità cioè che vuol dire speriamo i miei 39 anni se mai ci arriverò di questo passo spero di no ma speriamo che i miei 39 anni io diventi una persona normale veramente mamma mia non sto scherzando sono sfinito veramente sfinito ragazzi oltretutto sto video cioè fare sto video mi ha fatto veramente incazzare come una bestia perché questa è gente che vive tranquillamente in mezzo a noi che magari eppure cazzo un medico un avvocato cioè qui sotto c'è di tutto oh mio dio il mainstream ci vogliono controllare ma chi ma chi ti caga ma chi se ne frega e ti assicuro ci avessi qualcuno che ti vuole controllare non lo scriveresti su facebook non lo scriveresti in pubblico non lo scriveresti a nessuna parte staresti zitto zitto con quello che c'hai e ti assicuro nessuno vuole controllare un povero cristo che ha bisogno di andare su internet a dire lo sapete che mi vogliono controllare no se ti vogliono controllare fidati non so cosa dire se non speriamo che questo pianeta prima o poi venga intercettato da un buco nero perché veramente cioè abbiamo sbagliato qualcosa come specie o perlomeno hanno sbagliato qualcosa io sto benissimo va bene grazie a tutti grazie per essere stati qui qui sotto in descrizione trovate tutto ciò che può servirvi pampling instagram tiktok quello che volete io vi saluto e noi ci vediamo alla prossima tranne quelli che sono fit in questo video per loro no e no grazie ciao